Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Telegarda. Ieri sera dalle 19 in centro a Riva si è svolta la notte sport outdoor. Le vie e le piazze del centro si sono trasformate in un grande palcoscenico con varie esibizioni sportive. La festa è dedicata agli sport praticabili nel Garda Trentino e si propone di avvicinare ospiti e residenti alle varie proposte delle associazioni sportive locali. Le diverse postazioni hanno offerto la possibilità ai visitatori di cimentarsi con diverse discipline come ping pong, pallavolo, zumba, calcio, basket, aerobica e tante altre. È stato lasciato grande spazio ai bambini e ai giovani coinvolgendo gli adulti con musica e animazione. Per l'occasione molti negozi del centro sono rimasti aperti fino tardi. Complice anche il bel tempo e le temperature tipicamente estive, la partecipazione alla serata è stata ampia coinvolgendo sia i residenti che i turisti. grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanti chilometri al giorno per poi tornare a casa e non pensare che a te. Tanti chilometri al giorno per poi tornare a casa. Tanti chilometri al giorno per poi tornare a casa. Grazie a tutti. Grazie.